Sì, sicuramente sì, perché tutti i segnali vanno in quella direzione, i problemi o comunque le criticità del sistema di welfare attuale hanno necessità di trovare nuove soluzioni, soluzioni che permettano alle famiglie e agli utenti di trovare risposte ai loro bisogni, bisogni che stanno diventando più complessi, sempre più difficili da ricomporre e una piattaforma territoriale può essere sicuramente lo strumento.